Nel 2008 il film di Christopher Nolan, Il Cavaliere Oscuro, sequel di Batman Begins, sbancò il botteghino, merito dell'apprezzamento che il pubblico ha sempre mostrato nei confronti della trilogia del regista e della straordinaria interpretazione di Heath Ledger, che gli valse anche un Oscar purtroppo postumo. Il Cavaliere Oscuro è stato l'ultimo lavoro di Ledger, trovato morto nella sua camera d'hotel il 22 gennaio 2008, quando aveva già terminato le riprese. Nolan in seguito confesserà di non aver dunque modificato nulla, né di aver avuto la necessità di ricorrere ad effetti speciali per riempire eventuali vuoti narrativi causati dalla prematura morte dell'attore. E pensare che Ledger era restio ad interpretare il non facile ruolo di Joker, come ha rivelato Nolan in una vecchia intervista rilasciata di IndieWire. Ha detto, non reciterò mai in un film di supereroi, ha raccontato il regista, spiegando che poi Ledger si è convinto dopo aver ascoltato tutte le idee che Christopher aveva per il film. Fortuna che Ledger si è lasciato convincere, considerando che la sua interpretazione viene ormai considerata immortale e che gli utenti di Twitter ogni volta che la pellicola viene trasmessa in televisione non fanno che osannare il giovane attore. Talento indiscusso di Hollywood è scomparso decisamente troppo presto.